Cara elettrice, caro elettore, ritengo che l'appuntamento elettorale del prossimo 4 marzo sia fondamentale per la nostra regione. Ci troviamo di fronte ad una scelta importante, non solo perché si contrappongono due coalizioni che hanno caratteristiche sociali e culturali differenti, ma ancora di più abbiamo finalmente la possibilità di scegliere tra un futuro pieno di idee e innovazioni o un deludente passato già sotto gli occhi di tutti noi. Da una parte una coalizione di destra che pericolosamente ripropone a livello regionale slogan e paure alimentate dalla campagna elettorale nazionale, dimenticandosi volutamente il malgoverno degli ultimi 23 anni. Anni in cui ha ignorato le istanze, le esigenze e le richieste dei territori perché troppo concentrata a favorire questo o quel privato. L'abbiamo visto ad esempio con la perificace insistenza nel portare avanti il progetto dell'autostrada Broni Mortara, nonostante l'opposizione della popolazione e degli amministratori locali. Dall'altra la coalizione di centrosinistra, che si presenta agli elettori lombardi, forti di un leader serio, credibile, esperto, qual è Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Lombardia progressista, lista in cui mi candido, appartiene a questa di coalizione, che si impegna a soddisfare le necessità che spesso sono ormai emergenze dei nostri territori. Se verrò eletto, mi impegnerò sulla viabilità, una vera emergenza della nostra provincia. Prima fra tutte, risolvere l'annosa questione delle disastrate condizioni dei ponti e delle strade, già a causa di notevoli disagi alla sicurezza ed economicamente dannosa per autoveicoli e automezzi pesanti, ma anche investire e dotare di nuove infrastrutture in nostro territorio, quale è l'importante nuovo ponte della Becca. Ma migliorare la mobilità significa anche dotarsi di un trasporto pubblico locale efficiente, che consenta a tutti di utilizzare il mezzo pubblico come una valida alternativa al mezzo privato, sia in termini di comfort che di frequenza e costo. Più convogli e nuove carrozze dei treni, maggiore puntualità e miglioramenti su alcune tratte, raddoppio della Mortara Milano, quadruplicamento della Pavia Rogoredo, interventi sulla tratta Pavia Stradella e sulla Pavia Codogno, sono interventi urgenti e ineludibili. Ti chiedo quindi, il prossimo 4 marzo, alle elezioni regionali di indicare il mio cognome, Orellana, sulla scheda di color verde, a fianco al simbolo di Lombardia progressista.